Allora, oggi che giorno è? 18 giugno. Siamo in cima a Montemariana. Qui è il capogita Roberto Vernavà, la signora gentilissima, il Armando Cavani, meglio non che nominare, della sua notorietà, il nostro grandissimo salutore. Però faccio questo piccolo video, minimo, lui ci ha già spiegato 300 cime che si vedevano da qua. Vogliamo fare una panoramica a 360 gradi? Va bene? Insomma lasciamo i nomi perché andiamo a finire al Pelmo, cosa dici là giù in fondo, cose impressionanti, Antelao, no? Allora andiamo verso le nostre prealpi carniche. E con quello in fondo? E con quello in fondo? Bene, bene, bene. Dicevi della Paraiba dicevi no? Parliamo italiano qui eh? Insomma facciamo un po' una panoramica a 360 gradi. qui ci sono due valdi giovani. Prendi la donna, prendi la donna che bella. E beh beh tu stai dietro? Eh ma li parli alle spalle non va bene. Ecco invece veniamo a più miti consigli ma non anche tanto perché lo so per esempio questo in fondo è il Schiampon che è un bel monte e andiamo verso la pianura. la piatta pianura. San Simeone naturalmente, lago di Cavazzo e beh avanti. Direi che abbiamo chiuso il 360 gradi. Per favore lei da giù in fondo se ce la fa ancora mi fa come chiusura del video una suonata della campana? Ecco faccia faccia da sopra c'è la campana. Vediamo? Sì? Più forte? Più forte? Ah no va bene. Adesso arriva il vigile del fuoco. Ecco siamo contenti qui di essere arrivati non tanto per il 1.900. Caro Capugita ma ma gli altri stanno andando giù per la cresta in fondo fino alla valle soltanto 1.700 metri di livello Noi più modesti torniamo. Qui c'è una folca del Cristo dove siamo arrivati con i pulmini di 20 posti 40 persone abbondanti fino a 1.000 metri. Ecco che 1.900 è una cosa accettabile. Bene, chiudiamo. Abbiamo visto la bandonna per questa salita. Sicuramente. Ecco. No. No. Grazie a tutti.